22 gennaio 2017 è con noi Redenzi e Anzolin e ci troviamo nel cuore del suave nel paese della frazione di Fittà buongiorno a tutti bentornati e ben arrivati sono qui a Fittà di suave di consuetudine come ogni anno quest'anno è il 42esimo anno che siamo qui nel paese di Fittà un gran bel paese diciamo che per la maggior parte siamo sempre stati al sole come questa mattina niente aria niente ci sta bene siamo in tante ristoro i soliti ragazzi di Fittà che ci aiutano da 42 anni abbiamo una schiera di giovani in ottrata da qualche anno e sono molto 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 bravi c'è pieno ristoro di gente stanno mangiando e bevendo posso dire alcune cose stanno mangiando biscotti uova stanno bevendo il tè il brulee polenta e salsicce polenta e booster pane biscotto con il salame posso dire che sono tutti contenti allegri nessuno questa mattina li vedo a correre come dicono tutti quando c'è freddo si fermano a ristoro volentieri e dico che tutti hanno tempo noi li abbiamo colti nel miglior modo possibile siamo qui da stamattina alle sei ma è già una settimana che prepariamo anche noi qui perché sia fornito molto bene il ristoro di Fittà posso dire ripeto altra volta che sono stati gli anni passati e quest'anno sono molto molto bravi devo solo ringraziare perché non credevo che la schiera di giovani che è entrata dopo gli anziani che sono usciti fossero così bravi sono bravi 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 io posso dire soltanto un grazie a tutti e in questo vi dico grazie a chi ho visto vado al polo dei quali faccio parte sono del direttivo sono un fondatore e ringrazio forte perché vedo che veramente la gente è abituata a fare queste cose e non occorre dire tante cose loro sono già a tutta l'attesa e vi posso dire che qui il ristoro è pieno franco passerà anche la competitiva di 21 chilometri e sono molto contenta con quelli io di nuovo dico grazie a voi grazie a tutti i concorrenti che sono qui affittati suave gran bel paese ha il sole con gente simpatica grazie di nuovo il menù di oggi è il menù di oggi ho detto che cominciamo con abbiamo delle mele degli aranci delle uova dei panettoni dei biscottini pancare marmellata c'è acqua aranciata coca cola ciao coca cola poi c'è è la polenta salsicce polenta e buster e pane con insalame naturalmente ho già detto con il tè caldo e il burrito caldo col vino bianco della fita soave grazie di nuovo arrivederci e viva la valle d'alpone e viva gli alpini non posso dirla ciao marcellino sette due una padella grazie a tutti